Bene, buonasera. Buonasera a tutte e tutti. È un grandissimo onore e piacere avere con noi questa sera Massimo Recalcati. Allora, Massimo non ha bisogno di tante presentazioni, soprattutto non è un ospite, ma è un po' ormai diventato un protagonista della vita di questa istituzione in tante circostanze. Dunque, questa sera Massimo ci parlerà di questo scritto che ha dedicato a Pasolini, il fantasma dell'origine, e noi abbiamo voluto convocare questa serata anche un po' per prepararci a questa grande mostra che apriremo e inauguriamo il 15 di novembre, vero direttore, che si chiama Pasolini tutto è santo. Io accorcio le cose che volevo dire perché abbiamo fatto un po' tardi, non voglio sottrarre tempo a Massimo, però vorrei dire tre cose. Allora, intanto il fatto che Pasolini ci interroghi ancora profondamente lo vediamo da tanti segni. Secondo me, almeno per quanto mi riguarda, la fascinazione di Pierpaolo Pasolini, qui proprio vi parlo di me, è profondissimamente viva per quel tratto che Massimo sceglie proprio nell'incipit del suo libro e c'è quel tratto di contraddizione costante. Tu dici il soggetto diviso. Le poche cose che voglio dirvi partono proprio da qui, cioè questo suo essere dentro una contraddizione permanente che è la contraddizione della modernità e ti leggo perché faccio prima. Sono diverse e note le contraddizioni che attraversano la vita e l'opera di Pasolini. individualista, testimonia con coraggio all'impegno civile e collettivo dell'intellettuale, anticlericale, si schiera risolutamente contro l'aborto, comunista militante, subisce l'espulsione dal PC, con il quale entrerà negli anni in una relazione conflittuale sempre più aspra, ateo e marxista, resta però profondamente cristiano nello spirito, anticonformista, detesta l'anticonformismo, critico acerrimo dello strumento televisivo e del mondo dei media, però si rivela come tu scrivi, sorprendentemente a suo agio proprio in quel mondo, contestatore vigoroso del sistema, si schiera contro i giovani contestatari del 68, sono dalla parte dei figli del popolo, si schiera contro antipaternalista, non si risparmia dal segnalare il rischio del tramonto del padre nel nostro tempo, sperimentatore della lingua e delle sue grammatiche più raffinate, resta critico irriducibile di ogni avanguardismo, straordinario poeta civile, si mantiene fedele a una poesia che non esclude affatto i propri drammi più segreti e indicibili, pedagogo libertario, riconosce come insuperabile la figura del maestro però, omosessuale ribelle, è un conservatore dai valori della tradizione, quindi la tradizione, e del mondo contadino, critico spietato della borghesia e dei suoi codici di comportamento, scrive sul Corriere della Sera e su altri quotidiani che sono i quotidiani della borghesia. Questa è l'incipit, io due riflessioni voglio fare, ho trovato molto interessante questo saggio, questo saggetto di Massimo, e i due spunti sono questi, e poi ti lascio subito la parola. Allora, intanto, e sono spunti della cronaca di oggi, di questi giorni, noi non dobbiamo chiedere a Pasolini di rispondere ai problemi del nostro tempo, ma questa lettura di Massimo Recalcati su Pasolini, secondo me, apre a due grandi temi. il primo. Ricordi, usando anche gli strumenti interpretativi della psicoanalisi, che per fare a meno del padre bisogna servirsene, e ci sono delle pagine in cui tu interpreti questo tema, diciamo così, della critica di Pasolini alla critica radicale e indiscriminata che non modifica nulla. Cioè, quando Pasolini esorta i giovani del PC a prendersi la scena, ma allo stesso tempo ricorda quanto assomiglino troppo ai loro padri spavalli. E questo essere generativi, in questo caso non in politica, ma in realtà generativi nelle istituzioni, generativi nell'economia, implica e chiede la capacità di servirsi del padre, non di eliminarlo. Ecco, io su questo, ed è la tua lettura di Pasolini, mi vorrei soffermare perché, come dire, insomma, è un tema importante, è un tema che riguarda le istituzioni, riguarda l'amore per le istituzioni, riguarda, come dire, la capacità di Pasolini di pensare come entrare nelle maglie del potere senza rinunciare alla politica e alla vita del desiderio. Cioè, questa idea che oggi diremmo riformista della politica. Un filone. L'altro filone, invece, è questo parallelo che tu offri nella lettura di Pierpaolo Pasolini, tra questo, questa sua tema della disgregazione, tra l'amore sequestrato dalla madre, uso le tue parole, ovviamente, e questa pulsione sessuale che lo porta a un desiderio di morte, che è l'anima nichilista della sua struttura psichica. E c'è un parallelo tra questo, tra questa ripetizione incessante nella vita di Pierpaolo Pasolini e la sua critica alla legge nichilistica del capitalismo e del mercato. Cioè, è come se la sua, come dire, questo desiderio di morte, questa separazione tra l'amore e la pulsione sessuale, è la stessa separazione che poi lui critica nei meccanismi di accumulazione delle forme capitalistiche. E tu questo parallelo ce lo offri come spunto e ovviamente a me interessa capire se si può guarire dal nichilismo e dal godimento come unica forma possibile della legge sociale nel modo in cui produciamo e stiamo insieme nell'economia, ma mi ha molto affascinato e incuriosito questo parallelo, questo doppio registro che è legato all'impossibilità per Pierpaolo Pasolini di riunificare amore e sessualità e forse l'impossibilità per il mercato di riunificare produzione e generazione. Grazie, a te la parola. Bene, intanto buonasera a tutti, grazie Giovanna per ospitarmi e per le parole che hai dedicato al mio libro che in realtà già lo riassumono in gran parte e quindi oggi vorrei fare, ovviamente non riepilogare questo piccolo libro che è il mio omaggio personale a questo anniversario pasoliniano. Farò un ritratto, diciamo, del ritratto di Pasolini in quattro citazioni. Prima di fare queste quattro citazioni, che sono come quattro punti cardinali, diciamo, che provano a riassumere un po' la sua parabola intellettuale, umana e letteraria anche, vorrei dire che il mio incontro con Pasolini, come lo racconto in questo libro, è come me l'incontro di molti della mia generazione, è stato innanzitutto l'incontro con il suo corpo. Quando Pasolini morì, nel modo in cui morì, io ero giovanissimo allora, si vedevano le immagini di questo corpo straziato, sui giornali, in televisione, il corpo del poeta, lacerato, massacrato, assassinato, era evidente a tutti che non poteva essere stato, diciamo, un conflitto a due. Però da ragazzo io vidi innanzitutto il corpo del poeta massacrato. Poi scoprì, nel tempo, il mio esame di maturità, io portai in un istituto agrario, che frequentavo allora, portai, diciamo, le materie letterarie e portai una tesi su Pasolini. Perché nel giro di due anni sono passato dalla lettura del corpo alla lettura del testo di Pasolini e scoprì in questo passaggio che la sua prima lingua era quella del dialetto friulano. Infatti io portai all'esame le poesie a casa Arsa, in friulano, di Pasolini, sconcertando la mia commissione di maturità, che non si raccapezzava con questa strana lingua, che era la lingua di mia madre. Per cui ci fu questo primo incontro con Pasolini che è veramente un incontro sensuale, cioè passa attraverso il corpo, il corpo del poeta, il corpo della lingua, il corpo del dialetto, il corpo di mia madre, come fossero un blocco unico. Poi cominciò il tempo dello studio di Pasolini, che non ho mai smesso di leggere, insomma, in tutti questi anni, quindi per più di 40 anni. Faccio notare anche che il movimento del 77 era alle porte, Pasolini mora nel 75, dunque poi io giovanissimo mi impegnai nel movimento del 77, dove Pasolini veniva guardato effettivamente come un conservatore, da alcuni anche come un reazionario. I nostri riferimenti ideologici, culturali non erano certo Pasolini, erano piuttosto Sartre per un verso, Deleuze per altri toni negri, insomma erano questi i riferimenti di quel movimento. Eppure la figura di Pasolini circolava, circolava eroicamente, cioè era stato un testimone di che cosa significa gettare il proprio corpo nella lotta, dare testimonianza della lotta. Ora, questo aspetto testimoniale, se volete anche cristiano di Pasolini, è qualcosa che circolava già tra noi giovani, giovanissimi in quell'età. Io allora militavo in lotta continua, per dire. Lotta continua non eleggeva certo Pasolini come punto di riferimento. Eppure tra noi circolava questa ammirazione nei confronti di chi spende il proprio corpo, diciamo così, spende il proprio corpo sino in fondo nella passione politica. Allora io vorrei partire da qui, perché la prima citazione, è quella tratta, diciamo, dal libro di poesie probabilmente più riuscito di Pasolini, che è Le ceneri di Gramsci. Siamo nel 1957. Il riferimento a Gramsci è molto importante. Prima Giovanna, ricapitolando tutte le contraddizioni che in questo libro ho riassunto, che attraversano l'intellettuale, lo scrittore, l'uomo di cultura. In effetti c'è una divisione tra, per esempio, Gramsci e Gesù. È una divisione fondamentale. Da una parte c'è il materialismo storico, quindi una certa lettura della storia che ha come punto perno la categoria di classe, la storia come storia della lotta di classe. E dall'altra parte, invece, qualcosa che resta più indistinto, l'idea che la storia, in fondo, è la storia di un popolo che precede la classe. Questa problematica che adesso vediamo in una citazione, la differenza tra popolo e classe, è ciò che definisce, se volete, la dimensione populistica del pensiero di Pasolini. Perché è indubbio che c'è un populismo pasoliniano. Se volete, pre-marxista, nonostante il suo amore per Gramsci. In che cosa consiste il populismo pasoliniano? In quello che consiste ogni populismo, compreso quello che abbiamo conosciuto e che continuiamo a conoscere nel nostro paese, cioè l'idea che il popolo, quindi la categoria generica, per certi aspetti astratta, sovrastorica, il popolo coincida con il bene. Che il popolo sia il bene. E che il popolo sia il bene al di là di ogni forma di rappresentanza del popolo. Perché il popolo, in quanto tale, si rappresenterebbe da sé. Cioè custodirebbe da sé l'idea del bene. Allora, quindi, da una parte la classe, da una parte la storia, da una parte la lotta di classe come motore della storia, e dall'altra parte l'idea di un popolo incorrotto, originario, mitologico, che per Pasolini coincide prima con il mondo contadino friulano, poi con il sottoproletariato delle borgate romane, poi con il popolo africano, poi con il popolo indiano. Cioè con un popolo che non ha conosciuto la barbarie, ci torneremo su questo, dell'industrializzazione, della società dei consumi, eccetera. Però quando parla di Gramsci, e dobbiamo qui, siamo a Roma, insomma, nella sua città, al cimitero degli inglesi, di fronte alla tomba di Gramsci, cosa dice Pasolini? io sono, cito, io sono con te. Sono con te nel cuore e nella luce, ma sono contro di te nelle buie viscere. Sono attratto da una vita proletaria che a te è anteriore, e che per me, diversamente da te, è religione. A me interessa la sua allegria, non la sua millenaria lotta. A me interessa la sua natura, non la sua coscienza. A me interessa la forza originaria dell'uomo che si è perduta. Ecco, questo, se mi avete seguito, è veramente un esempio significativo della costituzione del populismo pasoliniano. Cioè, c'è un'allegria del popolo che precede la coscienza che lo istituisce come classe. C'è qualcosa che precede la storia e che è più originario della storia. Allora, qui io dico, si abbozza, già in questa prima citazione, quello che descrivo come il fantasma profondo di Pasolini che ha un lato politico, è un lato più intimo che vedremo, ma il lato politico di questo fantasma è la contrapposizione, se volete semplifico, però per farmi intendere bene, la contrapposizione tra Rousseau e Marx. Cioè, Pasolini si mette dalla parte di Rousseau e si mette contro Marx. Che cosa vuol dire mettersi dalla parte di Rousseau contro Marx? Pensare cioè che esiste una natura che precede la storia e che la storia corrompe necessariamente, inevitabilmente. Se voi aprite l'Emilio, cioè l'opera pedagogica di Rousseau, l'incipit, tutto esce, dice il filosofo, tutto esce bene dalle mani dell'autore delle cose e tutto inevitabilmente si corrompe nelle mani dell'uomo. come dire, fatalmente, necessariamente, la storia, il tempo storico, è un allontanamento alienante dall'origine. E cos'è l'origine? L'origine è appunto la natura. E che cos'è la natura? È la rappresentazione mitologica di un popolo che precede la classe dell'allegria del popolo, della istintualità del popolo, del dialetto che viene prima della lingua nazionale, eccetera, eccetera. Allora, questa idea è un'idea che ci porta a concepire, diciamo così, il tempo storico come un'alienazione in se stesso. Perché il tempo storico è contrapposto al tempo della natura. Questo è, diciamo, sono abbastanza spietato, mi accorgono, ma è effettivamente l'impalcatura concettuale del populismo di Pasolini ed è per questo che fa fatica a comprendere per esempio i movimenti che in quel periodo si stanno sviluppando, il femminismo, lo stesso movimento del 68, ci torneremo. Cioè, c'è una miopia di Pasolini nel decifrare il suo tempo che è legata a questo populismo non antipolitico, attenzione, perché il populismo di Pasolini diversamente da quello contemporaneo non è un populismo antipolitico, è un populismo mitologico, se volete ecologico, questo richiamo alla natura, al corpo incorrotto, alla pre-industrializzazione, al mondo contadino, dà proprio l'idea di un mix tra pensiero ecologico e pensiero mitologico. se volete è la versione mitologica del pensiero ecologico. Allora, è chiaro che questa rappresentazione del tempo storico come necessaria alienazione, quindi diciamo così, come sviluppo senza progresso, torneremo su questa famosa formula di Pasolini, la storia è sviluppo senza progresso, perché è senza progresso, perché è allontanamento dal bene, da quale bene? Dal bene del mito, dal bene della natura, dal bene dell'origine. Ecco perché, per esempio, Pasolini fu contro l'aborto, perché vedeva nell'aborto, diciamo così, l'irruzione della storia nel tempo innocente dell'origine, come una sorta di manipolazione storica del tempo incorrotto della natura. Ma, se noi passiamo alla seconda citazione, quella che per me è la citazione chiave di tutto il mio lavoro su Pasolini e che vi invito ad ascoltare diciamo con particolare attenzione. È una citazione non nota perché riguarda una lettera. Recentemente sono state pubblicate, come sapete, tutte le lettere di Pasolini. Questa è una lettera di Pasolini dei primi anni Sessanta che scrive un suo amico che è un prete. Si chiama Don Giovanni. Quindi quando sentiremo Don Giovanni non dobbiamo pensare a Mozart ma è l'amico di Pasolini. Vi chiederei di ascoltarla pensando alla morte di Pasolini. Questa è una lettera inquietante perché appare come una sorta di previsione preveggenza qualcosa che diciamo anticipa il suo destino. È importante che io vi lega questo passaggio. Scrive a Don Giovanni sono bloccato caro Don Giovanni sono bloccato in un modo che solo la grazia potrebbe sciogliere. La mia volontà e quell'altrui sono impotenti e questo posso dirlo solo oggettivandomi e guardandomi dal suo punto di vista. Forse perché attenzione forse perché io sono da sempre caduto da cavallo non sono mai stato spavaldamente in sella come molti potenti della vita o molti miseri peccatori io sono caduto da sempre e un mio piede è rimasto impigliato nella staffa così che la mia corsa non è una cavalcata ma un essere trascinato via portato via con il capo che sbatte sulla polvere e sulle pietre. Non posso dunque né risalire sul cavallo degli ebrei e dei gentili né cascare per sempre sulla terra di Dio. Ecco a parte la bellezza della prosa di Pasolini che meriterebbe un'attenzione letteraria ma qui sembra quasi che descriva la scena della sua morte. Il piede impigliato nella staffa il cavallo che corre il suo corpo che si sfracella nella polvere sotto i colpi delle pietre una caduta la vita come caduta. Allora il fatto che l'identificazione prevalente in questo passaggio è a San Paolo voi sapete che Pasolini scrive una sceneggiatura su San Paolo nel 68 importante che proprio in quell'anno Pasolini si dedichi a San Paolo e la farò breve ma di San Paolo che cosa ricordiamo? Ricordiamo la conversione cioè sul cavallo la grazia di Dio lo investe cade da cavallo perde la vista e convertendosi Saul il persecutore dei cristiani diventa Paolo il militante più radicale del cristianesimo quello che ne farà una religione universale questo movimento di conversione da Saul a Paolo cioè dalla caduta alla risurrezione che contraddistingue il destino di Paolo è esattamente ciò che Pasolini si vede precluso non c'è per lui possibilità di risalire sono costretto a cadere cioè la caduta diventa irreversibile non c'è conversione possibile e allora per mostrarvi questo carattere irreversibile della caduta e questa rappresentazione di sé come qualcuno che appunto è impigliato col piede nella staffa che viene trascinato nella polvere noi dobbiamo descrivere almeno due aspetti di questa caduta se volete un aspetto politico storico politico cosa intende Pasolini per caduta sempre di più dalla fine degli anni sessanta fino alla sua morte Pasolini si fa l'idea diciamo così ed è il tempo della sua collaborazione memorabile col Corriere della Sera si fa l'idea che il tempo storico è il tempo di una caduta irreversibile quale caduta una caduta che si accompagna ad una metamorfosi del potere su questo Pasolini è lucidissimo tanto quanto il suo populismo lo allontana dalla realtà storica la decifrazione della metamorfosi del potere trova pochissimi nel suo tempo con la stessa lucidità possiamo citare Foucault possiamo citare la biopolitica di Foucault possiamo citare Lacan e la riflessione di Lacan sul discorso del capitalista possiamo citare prima di Foucault e prima di Lacan ma sulla stessa linea la scuola di Francoforte e scuola di Francoforte Foucault Lacan sono diciamo i partner intellettuali di Pasolini e per certi aspetti Pasolini li sopravvanza tutti qual è la sua tesi la sua tesi è una metamorfosi del potere questa metamorfosi fondamentalmente consiste nel fatto che il potere non ha più un volto il potere senza volto e senza immagine in Foucault come sapete il potere biopolitico secondo Foucault non passa più attraverso il simbolo del sovrano che decide della vita e della morte dei suoi sudditi ma diventa una forza diciamo occulta rizomatica trasversale che dà forma alla vita quindi il potere ma questo lo dice Pasolini molto meglio per certi versi molto più radicalmente il potere non è più ciò che dà diritto di vita o di morte ma ciò che dà forma alla vita ciò che impone una forma alla vita ora questa forma implica innanzitutto il passaggio dalla diciamo così dalla società religiosa che è una società monoteista che implica appunto una verticalità un esercizio verticale del potere il sovrano il suddito Dio il suo popolo il cielo e la terra il passaggio da questa rappresentazione verticale del potere ad una rappresentazione orizzontale del potere Pasolini lo dice molto chiaramente il nostro tempo è passato da una rappresentazione monoteistica della società a una rappresentazione politeistica cosa vuol dire dal monoteismo al politeismo qual è il politeismo del tempo del nostro tempo è la moltiplicazione degli idoli cioè gli idoli che si moltiplicano strutturano la società dei consumi il nuovo totalitarismo secondo Pasolini non è più il totalitarismo fascista mussoliniano che si fonda diciamo sulla fascinazione del carisma nei confronti del Duce del Führer di chi rappresenta in fondo il simbolo di una paternità autoritaria ma questa rappresentazione del potere si è smembrata e siamo di fronte invece appunto a un politeismo una moltiplicazione degli dèi gli dèi sono diventati oggetti gli oggetti sono merci la vita vive diciamo così per il consumo salvo non accorgersi di consumare nel consumo se stessa è il paradosso diciamo del nuovo fascismo il nuovo fascismo implica appunto una dimensione invisibile del potere il potere si sparpaglia diciamo negli oggetti di consumo al centro non c'è più il sovrano ma la società dei consumi che che cosa che il cui comandamento non è un comandamento repressivo ma è un comandamento che obbliga al conformismo e al divertimento cioè che obbliga al godimento o più precisamente fa del godimento una forma inaudita inedita del dovere questo è un punto di grande convergenza con le riflessioni di Lacan cioè l'idea che il comandamento sociale ipermoderno si caratterizzi non per contrapporre il dovere al godimento come accadeva nella società per esempio fascista no? Dio famiglia obbedienza insomma qui si sarebbe ad aprire una parentesi contemporanea ma insomma Dio famiglia obbedienza quindi la società repressiva quello che nota Pasolini che il nostro tempo è il tempo di un iperedonismo di un permissivismo che però non libera affatto il desiderio ma lo spinge verso la morte questa è la sua lettura quindi diciamo questo nuovo fascismo questo tecno fascismo come dice Pasolini non ha più a che fare con la fascinazione nei confronti della figura appunto del padre carismatico incarnato nel duce non è più semplicemente monumentale sono sempre parole di Pasolini non è superficiale come fu secondo Pasolini il fascismo nel senso che il fascismo storico quello mussoliniano non intaccò alle sue radici la vita del popolo italiano diversamente il nuovo fascismo intacca la radice di questa vita e produce una catastrofe antropologica una sorta di genocidio di annientamento della cultura dei dialetti dei territori che viene come dire il cui pluralismo viene omologato secondo paradigmi stereotipati consumistici i due esempi i due articoli più noti di Pasolini in scritti corsari ve li ricorderete sono quello sui capelloni forse uno dei primi articoli Pasolini racconta un'esperienza personale si trovava in una hall nell'hotel a Praga e a un certo punto entrano due maschi con i capelli lunghi e Pasolini descrive come un'apparizione l'apparizione di una nuova forma umana apparizione di una nuova forma umana e fa notare in questo articolo che non vi riassumo ma vado subito al cuore del suo ragionamento il cappello lungo in un maschio potrebbe essere diciamo il marchio di una rivolta ma la plasticità la nuova plasticità del nuovo fascismo consiste nell'integrare questo segno potenzialmente rivoltoso facendolo diventare diciamo così una moda è un esempio che Pasolini usa per mettere in luce come dire la straordinaria plasticità del potere ipermoderno che non è repressivo ma ha una capacità di integrare costantemente il dissenso omologandolo come la t-shirt che riporta il volto di Che Guevara il volto di Che Guevara su una t-shirt i ragazzi a volte non sanno neanche che cos'è quel volto che cosa rappresenta perché quel volto è diventato semplicemente diciamo così un gadget è diventato una merce tra le altre secondo grande articolo molto noto quello sulle lucciole gli animali non le lucciole cioè la constatazione che Pasolini fa che nelle nostre campagne non ci sono più le lucciole è un articolo di una bellezza poetica unica io ricordo vengo dalla provincia di Milano nella pianura padana quando uscivo con la mia fidanzata di sera nei campi c'erano le lucciole e c'era l'abbraccio il bacio la carezza quello che c'era ed eravamo circondati dall'aureola delle lucciole ecco questo tempo poetico secondo Pasolini si è irreversibilmente esaurito perché? perché si sono accese altre luci c'è un'opposizione tra la luce diciamo della lucciola quindi della poesia fondamentalmente del campo del fiume della civiltà contadina e si sono accese altre luci le luci delle fabbriche le luci della televisione soprattutto la luce degli stadi altre luci che hanno come dire spento la luce della poesia ecco questa è sul piano è la caduta sul piano storico politico la caduta coinciderebbe con l'affermazione di un nuovo totalitarismo definiamolo un totalitarismo dell'oggetto un totalitarismo che non fa più perno sulla causa sull'ideale sulle grandi ideologie del novecento la storia la razza la nazione il popolo ma che fa perno su una sorta di cinismo disincantato viene meno come dire la percezione religiosa del mondo la percezione sacra del mondo lo splendore del mondo ed è per questo che diciamo Pasolini in contrasto con questa deriva di desacralizzazione dell'esperienza del mondo ritorna al cristianesimo ma ci ritorna diciamo così come marxista perché se voi riguardate il Vangelo secondo Matteo al centro è proprio la critica nei confronti della desacralizzazione del mondo e il tentativo di questo straordinario film è proprio quello di riproporre una percezione religiosa del mondo dove ogni evento del mondo è miracoloso in se stesso non sono i miracoli non sono diciamo episodi straordinari segni che Gesù semina nella sua predicazione terrena il miracolo secondo Pasolini è nell'evento stesso del mondo lo cito in teorema nella straziante bellezza del sole apro una parentesi divertente nell'anniversario della morte di Pasolini abbiamo organizzato il mio istituto di psicanalisi a Milano un cineforum tra cui c'era anche il Vangelo secondo Matteo molto divertente la racconto perché mi colpì molto e più o meno quasi tutti i psicanalisti dopo il film come si fa? necessariamente c'è il dibattito no? e allora in questo strano contesto c'è una signora che alza la mano dal fondo gli diamo la parola e le dice volevo intervenire io sono la Madonna ma noi ci siamo guardati come di adesso dobbiamo lavorare anche diciamo fuori orario e gli diamo la parola ma già con l'aria clinica di chi deve appunto raccogliere un delirio in realtà era la Madonna cioè era la ragazzina che appare nelle vesti di Maria ma non solo era la Madonna ci ha raccontato che lei gira l'Italia ai cineforum per presentarsi ogni volta alzare la mano sono la Madonna e questo genera veramente un effetto di spesamento e si presentò così anche a noi insomma la caduta che abbiamo visto adesso è la caduta diciamo del tempo storico il tempo del tecnofascismo è un tempo senza tempo è un tempo senza storia è uno sviluppo senza progresso dice Pasolini poi c'è un secondo lato della caduta che è più intimo più personale e che riguarda diciamo così il rapporto di Pasolini con la propria madre e che voglio riassumere in questa penultima citazione che è tratta da poesia in forma di rosa che è una poesia molto celebra intitolata Supplica mia madre dice allora vediamo potrei citare la memoria ma non oso eccola qua eccola qua dice insomma un dato biografico importante Pasolini ha avuto un pessimo rapporto col padre che era un militare fascista e che non sopportava di cui non sopportava la violenza che esercitava sulla madre amata quindi il rapporto con la madre è stata una costante che ha accompagnato tutta la sua biografia e così lui le si rivolge tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore tu sei la sola che è stata sempre prima di ogni altro amore e per questo devo dirti ciò che è orrendo conoscere perché è solo dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia tu sei insostituibile per questo è dannata la solitudine la vita che tu mi hai dato ma io non voglio essere solo ho un'infinita fame d'amore ma dell'amore di corpi senza anima perché l'anima è solo in te sei tu ma tu sei mia madre e allora il tuo amore è la mia schiavitù ecco qui diciamo agli occhi di uno psicanalista ma non solo il fantasma si denuda si denuda mettiamo l'accento su due elementi primo elemento la madre appare come insostituibile quindi appare come una cosa direbbe il mio maestro come una cosa insostituibile noi sappiamo che ogni processo di soggettivazione maschile o femminile che sia implica la sostituibilità dell'amore con la madre cioè sappiamo che il processo psichico fondamentale della soggettivazione è il lutto della cosa è il lutto della cosa primaria è il lutto della madre sappiamo che senza questo lutto non si dà possibilità dell'amore non si dà possibilità del desiderio non si dà possibilità di una vita affettiva diciamo ampia e in effetti questa poesia racconta di un sequestro nella misura in cui la madre appare come insostituibile sequestra l'anima del poeta l'abbiamo letto e fa sì che si disgiungano si separano la corrente pulsionale dalla corrente amorosa come dire l'amore sequestrato dalla madre a cosa cosa resta il poeta resta la pulsione che implica la moltiplicazione degli oggetti nella misura in cui resta insostituibile l'unico oggetto che conta quindi allora l'insostituibilità della cosa materna produce la moltiplicazione degli oggetti ma la moltiplicazione degli oggetti ha come sfondo la divaricazione tra l'amore che resta esclusivamente orientato verso la madre e la pulsione che invece come dire si dirige verso i corpi come lui dice corpi senza anima ma non solo perché il problema di Pasolini intimamente non fu l'omosessualità cioè è vero che noi parliamo di un'Italia sessuofobica omofobica che i suoi film sono stati censurati che i suoi romanzi hanno subito i colpi diciamo della censura clerico fascista democristiana tutto vero ma non è quello il punto di maggiore sofferenza non è l'omosessualità che lo rende reietto non è l'esperienza della omosessualità in quanto tale che lo esclude diciamo così dal resto del mondo il problema è la schiavitù nei confronti della madre è questa schiavitù che lo rende reietto e lo sospinge a moltiplicare gli oggetti del suo godimento come il discorso del capitalista moltiplica gli oggetti come ricordava Giovanna no? gli oggetti di consumo in questo senso c'è un'omologia tra ciò che Pasolini fa con il corpo basta pensare a petrolio ce la ricordiamo tutti la descrizione romana del pratone della casilina dove il protagonista nella sua macchina fa sfilare in una sorta di di terribile via crucis uno dopo l'altro corpi di giovani uomini a cui si sottopone sessualmente a ogni genere di prestazione corpi che non hanno nome corpi anonimi Lacan ci ricorda che l'amore è sempre amore del nome ma nella misura in cui il suo amore è legato a Susanna no? il nome della madre gli altri corpi non hanno nome sono ombre ombre di ombre ed è per questo dice in un'altra poesia dice ecco vedi sono migliaia perché io non posso amarne uno ognuno ha la sua bellezza che è la bellezza di tutti Bruno Bruno biondo lieve pesante io sono obbligato ad amarmi tutti ma il mio amore il mio amore è solo per una donna è l'amore di un infante è l'amore per la madre solo per essa impegno tutto il mio cuore per loro invece i miei coetanei i figli li vedo in squadre meravigliose sparsi per pianure e colli per vicoli e palazzi per loro per tutti loro arde in me solo la carne questo è lo strazio non è l'omosessualità in quanto tale lo strazio è la difficoltà di coniugare la pulsione all'amore è il sentimento di profonda solitudine che deve sperimentare perché appunto l'amore resta sequestrato nel rapporto con la madre che è insostituibile tra l'altro sul campo per arrivare all'ultima citazione in Pasolini l'esperienza del campo campo intendo dire del prato è un'esperienza che ricorre molto nella sua storia nella sua letteratura anche perché nel prato friulano adiacente alla scuola e vicino a una festa dell'unità compie i primi atti osceni che gli costano un processo e poi anche l'espulsione di conseguenza dal partito il prato il pratone della casilina è appunto questo luogo di un godimento mortale ma in Pasolini il prato per esempio ricorre anche nel suo straordinario amore per il calcio Pasolini calciatore allora lì lì c'è una sublimazione pulsionale perché i corpi restano i corpi dei giovani ragazzi calciatori con cui lui giocava qua a Roma anche in periferia ma lì non c'è pulsione di morte è come se la sublimazione sportiva diciamo così impedisse alla pulsione di cortocircuitare distruttivamente su se stessa e infine l'ultima citazione riguarda il 68 quale fu davvero la posizione di Pasolini nei confronti del movimento del 68 per un verso Giovanna la ricordava citando un passo del libro dicendo ma insomma Pasolini fu un contestatore del sistema ma quando ci fu il 68 contestò i contestatori e si cita sempre a proposito la famosa poesia il PC ai giovani che Pasolini scrive dopo la celebre battaglia di Valle Giulia in questa poesia si racconta ormai come uno stereotipo a cui non facciamo nemmeno più più a caso un po' tutti noi in Italia abbiamo ormai imboccato questa via per cui si dice ma Pasolini quando dovete scegliere tra i ragazzi del 68 e i poliziotti disse io non sto con voi che siete come i vostri padri figli di papà eccetera io sto con i figli dei poveri sto con i poliziotti perché sono come loro e contro di voi e qui si dice appunto ecco dimensione reazionaria del populismo di Pasolini che viene in primo piano non comprende nulla delle ragioni della contestazione si schiera diciamo così in modo acefalo per la polizia anche la sua brutalità contro i ragazzi del 68 questa è la versione ma la poesia non dice così o meglio la poesia dice solo in parte così cioè la prima parte è così più o meno ve l'ho descritta poi ci sono delle aggiunte fondamentali nella seconda parte che voglio ricordarvi perché danno veramente il timbro della posizione politica di Pasolini nella seconda parte voi vedete intanto che Pasolini si rivolge si rivolge ai ragazzi del 68 chiamandoli figli che ce lo siamo dimenticati cioè Pasolini si pone nella posizione dei contestatori come un padre simbolico li chiama figli e dice loro siete in ritardo attenzione gli dice siete in ritardo figli io cito memoria io non sono come gli altri intellettuali che vi leccano il culo testuale io vi dico che siete in ritardo quindi non lecca il culo non si adegua diciamo così al conformismo intellettuale che esprime solidarietà nei confronti dei ragazzi dice siete in ritardo ma questo è il punto in ritardo rispetto a cosa qual è il ritardo imperdonabile dei giovani del 68 è di avere contrapposto diciamo così la rivolta la contestazione al potere cioè di non riuscire a comprendere che il vero radicalismo non è nella rivoluzione ma nel riformismo che solo il riformismo può rivendicare una radicalità effettiva e che invece l'apologia rivoluzionaria resta come dire senza messa a terra senza capacità di traduzione politica ed è per questo che sempre rivolgendosi ai giovani dice ma invece di protestare invece di reclamare invece di rivendicare i vostri diritti aggiunge qui lo cito perché è troppo importante andate piuttosto figli figli ad assalire le federazioni del partito andate a invadere le sue cellule andate ad occupare gli uffici del comitato centrale andate andate ad accamparvi in via botteghe oscure andate a prendere in mano il partito questo dice ai giovani assumetevi in modo radicale la vostra responsabilità riformista che non significa contrapporsi alle istituzioni ma significa far vivere in modo nuovo le istituzioni e su questo veramente l'ultima citazione che è la cosa a cui tengo di più di tutto il mio ragionamento è la grande attualità di Pasolini e su questo in trasumanare e organizzare che è una raccolta di poesie che è veramente un saggio di teoria istituzionale che i nostri politici dovrebbero leggere per esempio trasumanare e organizzare sono due espressioni dantesche non c'è trasformazione trasumanare senza organizzazione ma cosa dice in questo testo che è di un'attualità veramente se pensiamo a quello che sta accadendo nel cuore dell'Europa e a come il mondo politico italiano in particolare sta leggendo e rispondendo a quello che sta accadendo in Europa mi pare un passaggio fondamentale sempre rivolto ai giovani sempre rivolto ai suoi figli dice ma ascoltatemi anime belle del cazzo perché cos'altro moriranno i due fratelli Kennedy se non per un'istituzione e per cos'altro se non per un'istituzione moriranno tanti piccoli sublimi Viet Cong perché le istituzioni sono commoventi e gli uomini che vivono in esse non saprebbero riconoscersi come uomini perché sono esse solo le istituzioni che li rendono umilmente fratelli ascoltatemi ascoltatemi c'è qualcosa di misterioso nelle istituzioni sono l'unica forma di vita semplice modello per l'umanità che il mistero della vita di un singolo in confronto è nulla a questo è il punto si può dare la vita per difendere un'istituzione si può dare la vita per difendere un'idea si può dare la vita per un'istituzione quando il populismo non pasoliniano perché come ho detto prima il populismo di Pasolini è politico è mitologico e politico con tutti i suoi limiti ma non è mai antipolitico Pasolini è un un critico radicale del potere del suo sistema ma difende la poetica delle istituzioni descrive le istituzioni come commoventi e misteriose quando il populismo nostrano ha rappresentato negli ultimi decenni come dire da una parte la vita la purezza della vita la gioia della vita l'onestà della vita la vitalità della vita e dall'altra parte la polvere il marcio la corruzione delle istituzioni la vita contro le istituzioni questo è l'essenziale di ogni populismo antipolitico contrapporre la vita alle istituzioni Pasolini dice si può morire per un'istituzione si può dare la vita per un'istituzione e questo è il miracolo più grande perché il miracolo più grande appunto è realizzare quello che con il linguaggio cristiano Pasolini in teorema definisce proprio l'esperienza della fratellanza che per noi sarebbe l'esperienza della solidarietà cioè della vita che sa generare comunità ecco perché concludo con questa ultima osservazione in un altro articolo pubblicato credo sul messaggero Pasolini dice in fondo il novecento tutto il novecento ha vissuto replicando tre parole di San Paolo della prima lettera ai Corinzi però in questa replica di queste tre parole che sono appunto le prime due fede e speranza tutto il novecento si è mosso orientato dalla fede e dalla speranza due delle tre parole di Paolo fede e speranza aggiunge Pasolini queste due parole fede e speranza senza la terza sono mostruose nel nome della fede e della speranza e sono massacrati i popoli sono massacrate le vite la fede la speranza l'utopia la rivoluzione la fede la speranza ci vuole una terza parola senza la quale queste due parole restano mostruose e informi la terza parola è quella della carità ma possiamo tradurre con quella dell'amore è la terza parola la parola della solidarietà della fratellanza che rende le prime due che giustifica le prime due la parola della fede e della speranza come dire senza la terza parola non esiste poetica delle istituzioni la poetica delle istituzioni dovrebbe sapere includere alla fede e alla speranza la parola dell'amore grazie grazie se il dottore è disponibile possiamo accogliere allora ancora qualche domanda tanto grazie in realtà ne avevo due di domande che ci sono venute una forse è più semplice cioè in questa situazione così psicanaliticamente complessa con la madre ha avuto un rapporto con la psicanalisi Pasolini e di che tipo la seconda invece è un po' più proiettiva non so nulla del suo rapporto con la scienza ma se tu lo dovessi immaginare negli ultimi anni come dire diviso tra questa nostalgia delle origini del stato di natura che hai detto all'inizio e l'amore delle istituzioni sarebbe stato un pro-vax o un anti-vax Pasolini la prima la risposta è facile Pasolini non fece mai analisi coltivò una particolare amicizia però con il padre della psicanalisi italiana che fu Cesare Musatti che con Alberto Moravia se vi ricordate fu uno degli interlocutori privilegiati di alcuni documentari che Pasolini fece al tempo stesso però studiò profondamente la psicanalisi in particolare l'opera di Freud diciamo i rapporti con Lacan il mio allievo ha scritto un librone di molte pagine ma diciamo tra i due non c'è mai stato un effettivo scambio pur essendo contemporanei e pur rispetto alla decifrazione delle metamorfosi del potere dicendo per certi aspetti le stesse cose sulla seconda questione non avrei dubbi Pasolini sarebbe stato un deciso sostenitore della mascherina del distanziamento della risposta solidale all'emergenza sanitaria perché la sua idea di libertà ha per un verso un lato anarchico che è indubbio Pasolini alla fine della sua vita fu molto più vicino al partito radicale di Marco Pannella che non al partito comunista c'è un laicismo che diciamo lo porta a diffidare di ogni forma di dogmatismo e di ogni forma di fanatismo non avrebbe apprezzato molto i virologi soprattutto il carosello televisivo dei virologi avrebbe dato più retta ai politici secondo me che non ai virologi perché sul piano sarebbe stato un avversario radicale dello scientismo di tutte le forme che assume lo scientismo lo scientismo è come dire la riduzione è un esempio agli occhi sarebbe stato un esempio agli occhi di Pasolini del fenomeno della desacralizzazione del mondo cioè il mondo ridotto a cifre il mondo ridotto a numeri il mondo ridotto a contabilità niente di più lontano dall'idea pasoliniana per cui diciamo quello che conta lui lo dice di sé io ho una percezione religiosa del mondo e quando uno gli chiede ma cosa vuol dire percezione religiosa del mondo che Dio è in ogni cosa cioè in una panchina nell'uomo che cammina nel prato nell'aurora nell'incontro con l'amico questa idea per cui l'evento stesso del mondo è un miracolo agli occhi di Pasolini sul resto io penso che però è difficile interpretarlo avrebbe scelto la via di una concezione della libertà come solidarietà in fondo il grande magistero del covid che cosa ci insegna che la libertà non è una proprietà tantomeno una proprietà dell'io che non è una legge ad personam che implica invece sempre necessariamente la connessione sistemica la relazione con l'altro insomma che pensare che la libertà sia fare quel che si vuole è veramente una concezione puberale della libertà mio figlio pensa che la libertà sia questa ma mio figlio ha 18 anni è suo diritto pensare questo però è difficile immaginare le sue mosse sarebbe stato spesso in televisione sono certo di questo allora io volevo fare una domanda sul rapporto di Pasolini con il partito radicale ai primordi anche se ha già in parte risposto per quanto riguarda la sua parte finale della vita però mi interessava sapere anche se ci fosse stato e in quali termini però intendo quelli del mondo Pannonzio e quegli anni lì e l'altra cosa che mi è venuta a mente proprio negli ultimi minuti sul mi azzardo a dire panenteismo che Spinosa rappresenta e che mi pare che si possa in certi termini associare anche a un'idea a un pensiero di Pasolini per come lo ha descritto proprio in questi ultimi cinque minuti ecco se non è un'idea troppo azzardata sulla prima domanda io non sono un biografo di Pasolini quindi non saprei risponderle con precisione se non col dirle che il partito col quale Pasolini ha vissuto diciamo una relazione di appartenenza profonda è stato il partito comunista Pasolini è un marxista e ha sofferto profondamente l'espulsione dal partito e l'inasprimento dei rapporti col partito comunista che non ricordiamo Pasolini pensava fosse veramente un paese nel paese cioè qualcosa che salvava il paese dalla sua deriva clerico clerico democristiana iperedonista no cioè c'era qualcosa di etico nel partito comunista al tempo stesso come dire la sua propensione era alla laicità del pensiero e dunque il fatto che fosse andato verso il partito radicale non mi stupisce affatto invece sulla seconda posso dirle qualcosa di più perché mi convince il richiamo a Spinoza nel senso diciamo della percezione della presenza del divino nella natura ma c'è un elemento che differenzia profondamente Pasolini da Spinoza che è la particolarità del suo cristianesimo su cui oggi non ho detto nulla perché se voi prendete un romanzo come Teorema che è anche un film ve lo ricordo Teorema esce nel 68 c'è una famiglia borghese 4 più la domestica 5 ve la faccio in breve a un certo punto che cosa accade in questa famiglia borghese arriva un ospite uno straniero la cui bellezza è inaudita non parla dobbiamo immaginarci questa famiglia grigia rutinaria abitudinaria l'irruzione dell'ospite che porta con sé una bellezza inaudita indicibile che modifica uno dopo l'altro i cinque personaggi domestica compresa che a un certo punto diventa una santa che lievita diciamo per aria ciascuno per esempio la madre che era una puritana diventa una donna che scopre il sesso diciamo è un eufemismo il film è un po' più hard il figlio che non sapeva cosa fare diventa un artista e la figlia che era sempre stata obbediente sommatizza si ammala in un modo che non può essere in nessun modo guarito e il padre che era un industriale si spoglia di tutti gli averi e finisce correndo nudo urlando nel deserto questo è il cristianesimo di Pasolini cioè l'idea che ciò che che è sempre possibile un incontro che trasforma radicalmente la tua vita e la porta fuori dai suoi programmi fuori dal canone borghese della vita amministrata ecco Cristo per Gesù per Pasolini è questa possibilità la possibilità di un incontro che interrompe un ordine e ne spalanca uno inimmaginabile se voi guardate in questa luce il Vangelo secondo Matteo trovate che la potenza di Gesù è questa di essere un incontro un incontro con cosa? beh questa la bellezza silenziosa del desiderio l'incontro con il desiderio che mette in moto la vita che mette in movimento la vita ecco questo aspetto del cristianesimo di Pasolini interrompe l'ordine necessario del panteismo spinoziano perché introduce l'elemento della contingenza non della necessità cioè l'incontro è una contingenza e Gesù è per Pasolini quanto meno più di Gramsci perché Gramsci apparterebbe più al registro spinoziano per come Pasolini lo legge in realtà cioè l'idea che appunto la storia sia la storia della lotta di classe Gesù più di Gramsci incarna in ogni caso la possibilità di un incontro che interrompe l'alienazione e genera conversione conversione significa proprio dare una forma nuova alla propria vita e tutti i protagonisti di Teorema danno una forma nuova alla propria vita e avevo visto avevo seguito la mostra di Pasolini che è stata qui a Roma nel 2015 se non mi ricordo male e mi ha colpito un aspetto che il curatore o comunque la persona che ci ha accompagnato nella visita metteva in risalto appunto le capacità profetiche tra virgolette di Pasolini riportandole appunto come fatto non divinatorio ma come fatto appunto che un fine intellettuale quale era lui riesce a mettere insieme dei dettagli delle indicazioni che gli possono dare appunto delle indicazioni del futuro anche abbastanza lontane e in particolare riportava una poesia che adesso non mi ricordo qual era nella quale c'erano descritte diciamo varie cose che poi si sono avverate lei ha espresso nel secondo punto appunto la metafora della poesia appunto della caduta del cavallo che anticipa un po' le modalità tremende della sua morte e volevo sapere appunto cosa ne pensava lei su questo argomento grazie sono impreparato diciamo no capisco quello che dice ma insomma è certo che diciamo l'impatto radicale della cosiddetta civiltà dei consumi sulla metamorfosi antropologica del soggetto ipermoderno beh Pasolini l'ha intuita profondamente in profondità no cioè per esempio il fenomeno che dell'evaporazione della politica della deideologizzazione della politica ma anche della morte dei partiti cioè del rischio o dello stato comatoso diciamo in cui molti partiti si trovano no lo spostamento aleatorio dell'elettorato in ogni elezione diciamo così chi vince e chi rappresenta il nuovo fondamentalmente no significa che non c'è più rapporto di fedeltà con un ideale non c'è più rapporto di fedeltà con una causa allora il tramonto delle grandi ideologie era descritto da Pasolini attraverso l'affermazione del tecnofascismo laddove si afferma il tecnofascismo si desacralizza il mondo e evaporano le grandi ideologie del novecento il mondo tecnofascista è un mondo senza ideali questa è una diciamo anticipazione diagnostica che Pasolini ha fatto e è molto lucida dirò di più dal punto di vista clinico per esempio c'è un articolo sul Corriere della Sera dove Pasolini parla della droga siamo nei primi anni settanta non so se chi si ricorda ma insomma la droga era una epidemia per i nostri giovani allora la droga prendeva più le forme radicalissime dell'eroina l'eroina non è la cocaina l'eroinomane non è il cocainomane la differenza tra l'eroinomane e il cocainomane dal punto di vista clinico che è anche una differenza però storica fondamentale è che l'eroinomane esce dal sistema rifiuta il sistema contesta se volete il sistema questo uso rivoltoso della droga proviene dalla bigeneration per esempio la bigeneration introduce l'idea che il consumo della droga sia antisistema il cocainomane non a caso la cocaina circola anche nei palazzi del potere circola nei palazzi del potere perché incrementa il principio di prestazione e dunque favorisce l'integrazione quindi abbiamo da una parte la droga di cui parla Pasolini è la droga della sconnessione dal sistema e quello per lui era un grande tema che lo preoccupava moltissimo cioè il fatto che le nuove generazioni fossero o vittima dell'integrazione quindi omologate assorbite nel sistema i cappelloni che diventano da figure della rivolta a diciamo figura alla moda oppure la figura dell'eroinomane del drogato come colui che per contestare il sistema deve andare verso la morte no? E cosa risponde in questo articolo molto bello che io spesso ho citato diciamo sulle pagine di Repubblica e risponde che c'è solo un un trattamento possibile della spinta diciamo così antisistema distruttiva della droga qui la droga sta per tutto quello che oggi potremmo mettere no? Le dipendenze dalla tecnologia lo psicofarmaco la depressione insomma tutte le patologie della contemporaneità che affliggono le nuove generazioni le fobie sociali gli hikikomori cioè queste derive passivo depressive delle nostre nuove generazioni Pasolini lì parla di vaccino e dice che esiste un vaccino e che questo vaccino si può somministrare gratuitamente e dice che questo vaccino è la scuola la cultura che la cultura è desiderio di vita contro desiderio di morte questo pensiero sulla scuola possibile che nessuno cioè che quando vabbè insomma qui entro nell'attualità ma mi fermo l'idea che la scuola sia una sentinella diciamo così della possibilità di formazione della vita e quindi anche un argine nei confronti delle cattive pratiche che la sua missione non è solo quella di trasmettere istruzione non è un'azienda che l'inoperosità della scuola risponde a un criterio etico più fondamentale che è quello di dare forma alla vita di dare possibilità alla vita di avere una forma e quindi di integrare la vita nella cittadinanza diversamente dall'aeronomane che si trovava appunto fuori dalle stazioni nei parchi segregati ai margini della città ecco questa idea che la scuola sia il luogo che coltiva coltiva il desiderio di vita è una potente idea di Pasolini io aggiungerei anche che la scuola insieme a questo dovrebbe coltivare veramente il lutto dell'idea che esista una sola lingua che è il lutto nostalgico di tutte le ideologie esiste una sola lingua e noi parliamo da una superiorità morale rispetto a questa lingua che noi parliamo che non è la lingua dell'altro ecco la scuola dovrebbe essere il luogo dove davvero il tema dell'inclusività della cittadinanza non restano parole vuote ma c'è che si integrano nella pratica quotidiana qualche anno fa la fondazione Agnelli fece uno studio sulle scuole italiane sulle scuole medie e mi colpì l'esito di questo studio perché riportò che i gruppi classe più interessanti più dinamici più generativi erano i gruppi classe la cui composizione sociale etnica linguistica era maggiore ma è così bisogna spiegarlo che è così che l'idea di un solo popolo una sola lingua non porta da nessuna parte se non a segregazione contrapposizione e desiderio di morte non di vita grazie innanzitutto e volevo fare una domanda io ho partecipato alla presentazione di Don Ciotti nel film questo gennaio all'evento del cinema in piazza al parco della cervelletta e Don Ciotti ha affermato che questo film rappresenta il dio che non vive nei cieli ma vive qui sulla terra dove Pasolini ha scelto di fare un Cristo presente nei Cristi mettendo come protagonisti gli uomini stessi che sono i frammenti di questa divinità frantumata e volevo chiederle se potessimo considerare Pasolini un po' come un eretico che in un certo senso strumentalizza la religione ossia tende a far riflettere le persone un po' a trasumanare come Dante afferma nel paradiso infatti nello stesso quarto canto del paradiso lui ci dice che Beatrice anzi rispondendo alle sue domande che Dio ha creato il male proprio per far sì che noi uomini siamo consapevoli di poter essere liberi di scegliere una strada diversa dalla religione lo stesso Deandrea alla morte di Pasolini diciamo cita e realizza questa canzone intitolata storia di vite sbagliate affermando un po' tendendo a far continuare quel sogno di Spinelli ossia di un'Europa una costituzione democratica che dovremmo un po' assimilare al termine mondo proprio quello che ha detto lei riguardante alla fraternità a questa diciamo tendenza del proprio percorso nell'altro un po' quello che manca diciamo nell'Italia di oggi è il promuovere progetti Erasmus che i giovani in un certo senso rendono sempre più difficili da poter fare in quanto non vengono neanche sponsorizzati quando l'Unione Europea ne propone tantissimi io stessa ne ho fatti quattro in un solo anno ma non perché li hanno sponsorizzati ma perché diciamo grazie a insegnanti che in un certo senso mi ricordano anche lei ed è per questo che io oggi sono qui grazie al mio insegnante italiano che ci ha fatto una testa così su Pasolini soprattutto nell'ultimo periodo e niente è stato un po' come vedere sentire anzi la voce di Pasolini trasmetterci un messaggio attraverso i suoi occhi non aprendo neanche bocca un po' quello che fanno i letterati attraverso le parole camminando in punta di pieti un po' nelle menti degli antichi e questa conferenza di oggi è stata un po' come aver riportato in vita per un'oretta e mezza circa quello che è stato un grande uomo che ancora oggi ci offre spunti di riflessione e ci permette di creare un po' una storia di vita meno sbagliata in questo mondo e quindi grazie mille hai fatto una tesina su Pasolini che scuola fai? e c'è scientifico ultima domanda io volevo chiederle come il rapporto viscerale con sua madre avrà influenzato il rapporto che avrà avuto con le donne per esempio Maria Callas e poi come avrà inteso la morte visto che mi dà idea di un uomo che sfida la morte proprio perché ama la vita allora sul primo intervento ampio diciamo che ci ha preceduto mi permetto solo di fare una piccola chiosa sul fatto che questo è un grande tema mi limito solo a evocarlo la religiosità in Pasolini implica una critica radicale alla religione così come nella Torah quello che noi chiamiamo Antico Testamento e nei Vangeli uno dei bersagli fondamentali di questi due grandi testi è la religione cioè nelle parole di Gesù c'è una critica radicalissima alla religione al Tempio agli scribi ai sacerdoti a chi non sa leggere il testo della legge la critica alla religione è centrale nella Bibbia se uno prende l'Antico Testamento troverà che costantemente la religione come idolatria fanatismo dogmatismo fondamentalismo non c'è mai una parola contro l'ateo l'ateo non è mai oggetto di critica nella Bibbia la critica è sull'idolatra cioè sull'uomo religioso cioè sul fanatico cioè sull'uomo superstizioso sull'uomo che crede nell'io come se l'io fosse un dio lì troviamo una critica potente quella che nell'Antico Testamento viene definita proprio la follia più grande dell'umano è quello di credere nel proprio io di credere di essere un io di credere che il proprio io è l'essere di Dio Pasolini ha tutt'altra concezione della religione cioè a partire da questa critica religiosa alla religione sostiene la religione come capacità di stupirsi di fronte al mondo capacità di incontrare il mondo Dio scrive Pasolini è in un'aurora ecco la contemplazione dell'aurora è l'esperienza del divino invece sulla questione del è in dubbio che in Pasolini ci sia una spinta alla morte che poi questa spinta alla morte sia diciamo stata la conseguenza fatale della sua fine io non mi spingo fino a lì però è in dubbio che vi sia stata una spinta alla morte nel rapporto che ha intrattenuto appunto abbiamo letto no? migliaia di corpi anonimi come una sorta di predazione continua del corpo dell'altro pensate solo a Salò l'ultimo grande film di Pasolini l'opera testamentaria di Pasolini lì che cosa vediamo? vediamo un godimento che non ha più argini un godimento perverso senza desiderio senza amore nella villa dei gerarchi fascisti l'amore è proibito è veramente una rappresentazione del nostro tempo l'amore è una perdita di tempo quello che conta è la consumazione dei corpi la predazione dei corpi e vi ricordo che in quel film a proposito di crisi dell'ideologia noi abbiamo quelle due scene fondamentali in una in cui un ragazzo viene messo quasi affogato in un in un catino di merda e prima di affogare alza no si fa il segno della croce grande simbolo che affoga diciamo nella merda e il ragazzo che invece viene sorpreso mentre fa l'amore con la sua compagna che è proibito fare l'amore c'è un sesso disgiunto dall'amore viene punito con una fucilazione sul posto e prima di essere fucilato tiene il pugno chiuso abbiamo veramente questa in salò l'evaporazione dei due grandi simboli che hanno orientato la vita delle masse in occidente c'è una spinta verso la morte quando Pasolini parla del desiderio di morte a proposito della droga parla del suo ma ciò che lo trattiene che lo ha trattenuto almeno fino ad un certo punto è stata la sua capacità di costruire critica sociale poesia cultura cinema attorno a questa spinta è chiaro che il suo rapporto con le donne era senza eros perché perché l'eros eterosessuale era sequestrato nel rapporto con la madre quindi diciamo non poteva desiderare una donna non ha mai raccontato che io sappia di un'esperienza amorosa sensuale erotica con la donna bene allora grazie grazie a Massimo io ovviamente vi do vi do appuntamento alla grande mostra su Pasolini che aprirà tra circa un mese ci sarà ancora da discutere da parlare tanto e da scavare tanto sull'eredità di questo grande italiano grazie a Massimo Ricalcati grazie grazie